Partnership tra le fondazioni IPE Business School e Azimut Capital Management SGR per formare i consulenti finanziari del domani. Nascono così un'academy e un master in public e private asset advisor. Il master prevede l'alternanza di studio in aula e formazione sul campo attraverso l'affiancamento di figure senior della rete Azimut in attività di stage e project work. A presentare le iniziative nel corso di un incontro svoltosi presso la sede dell'IPE a Napoli sono stati Antonio Ricciardi, presidente della fondazione IPE Business School e Riccardo Maffiuletti, amministratore delegato di Azimut Capital Management SGR SPA Area 5. Qual è il significato dell'academy? L'academy io insieme all'azienda selezioniamo a monte i candidati, li formiamo e poi l'azienda si impegna ad assumerli. Questa è una soluzione in questo momento per affrontare una serie di particolarità che caratterizzano attualmente il mercato del lavoro. In questo momento c'è uno zoomani del problema demografico e quindi mancano i giovani che possono essere inseriti per cui si selezionano a monte questi giovani per poi formarli e aderirli e fidelizzare l'azienda. Oggi c'è questo fenomeno dei giovani che lasciano repentinamente le aziende e non sono fidelizzate. Attraverso l'academy noi trasferiamo in collaborazione con l'azienda con la quale realizziamo questa academy realizziamo proprio la cultura di quell'azienda per cui sposano i principi e i valori di quell'azienda per poi contribuire al proprio sviluppo. Penso che questa sia effettivamente una nuova soluzione che risponda effettivamente in maniera efficace alle nuove modalità del mercato del lavoro. Mercato del lavoro che riguarda i nostri giovani talenti che noi sul territorio campano del Mezzogiorno cerchiamo di trattenere e non esportarli e quindi contribuire allo sviluppo di questo nostro territorio cui è legato all'IPE Business School. Siamo particolarmente contenti di comunicare questa collaborazione con IPE, questo prestigioso istituto partenopeo. Ci vede schierati con loro in prima linea a garantire una successione generazionale dei nostri consulenti finanziari ma non è solo questa la vera motivazione per cui abbiamo messo in piedi questa collaborazione la vera motivazione è che le esigenze dei risparmiatori italiani stanno cambiando stanno cambiando alla velocità della luce sono molto in grande e veloce evoluzione e quindi necessitiamo di professionisti di menti aperte, menti giovani che sappiano cavalcare questa evoluzione e sappiano al più presto essere formati e preparati e pensiamo che IPE sia la culla ideale per questa formazione e preparazione per affrontare le esigenze, ripeto, di tutti i risparmiatori. Siamo assolutamente certi e convinti di operare in un ambito sociale accompagnare un risparmiatore nel proprio percorso di vita è per noi un impegno sociale importante riteniamo che lo stesso impegno sia anche giusto e corretto metterlo sui territori campani piuttosto che partenopei.